I residenti del quartiere di Lucera 2 sono ormai arrivati al limite, laddove da oltre un anno, nonostante il completamento di una struttura sportiva di prim'ordine, la zona è stata abbandonata da parte del comune in attesa di una gestione privata, lasciando così via libera ai piccoli grandi vandali che più volte hanno divelto recinzioni, danneggiato strutture e sporcato strade e campetti situate proprio alle porte della città. Cioè qua i ragazzi entrano come gli pare piace, l'altro giorno proprio il comune è venuto a ritirare le porte che hanno completamente smantellate, rotte, le ha sistemate e le hanno rimesse, ma sono aperte. Noi vediamo questa scrittura che è stata fatta, l'abbiamo vista nascere e poi la stanno distruggendo, non è mica una cosa fatta bella. Il sindico che ci ha risposto, il sindico quando è stata venuta la settimana scorta, ci ha risposto, ma dice noi voi non possiamo guardare. E chi la deve guardare? Questi sono beni comuni, sono stati spesi circa 5 miliardi lì, chi li deve stanno guardare? Noi, noi facciamo quello che possiamo, però inoltre di quelli non possiamo fare niente. In effetti la zona era già stata presa più volte di mira dai vandali quando era ancora un cantiere, cosa che costrinse l'appaltatore a ripristinare i luoghi a caro prezzo. Il problema generalizzato è la mancanza di educazione civica dei giovani, ma soprattutto dei più grandi, ormai resti a richiamare ragazzi sorpresi a danneggiare qualcosa per paura di ritorsioni. Senza parlare dei padroni dei cani che hanno accolto la nuova struttura come una grande lettiera, incuranti che su quei prati o in quelle strutture possano andarci dei bambini piccoli. Infine rimane una priorità l'illuminazione pubblica pressoché assente nella zona e che favorisce i malintenzionati. Urge davvero un intervento immediato. Non c'è illuminazione, hanno rubato le macchine, hanno incendiato le macchine, hanno rubato negli appartamenti, hanno rubato nei box. Noi come ci dobbiamo difendere? Come diciamo in televisione ci dobbiamo armare pure noi. Ci armiamo, ma che dobbiamo fare? È un problema un po' particolare, è il minimo necessario, che sarebbero le cose più importanti.